Ciao, sono Valentina Vandili, LinkedIn Expert e in 60 secondi oggi voglio spiegarti come trovare clienti facendo commenti su LinkedIn. Bene, immagina quello che si faceva e si fa tuttora sui forum di discussione, ovvero per trovare clienti si va nei topic, negli argomenti aperti, nelle domande aperte e si va a intercettare appunto la persona che ha bisogno magari di sapere qualcosa di più sull'argomento di cui tu parli, quindi sulla tua professione, su qualcosa in particolare. Beh, la stessa cosa la puoi fare sui commenti di altre persone, magari di persone che hanno una rete molto interessante per te. La rete significa i contatti all'interno del proprio profilo LinkedIn. Bene, questo è uno strumento molto utile, ti consiglio di farlo per una settimana, dopodiché torna su questo video e raccontami i tuoi risultati. Se ti è piaciuto questo video, clicca consiglia oppure clicca like, dipende da dove lo vedi. Io ti saluto e ti rimando al prossimo video. Ciao da Valentina!